Grazie. Grazie. Buonasera. Questa sera il coro Le Not Flery vi racconterà una storia. Lo farà con poche pennellate, illuminate come da lampi, lampi di canti passati. È la storia di un viaggio, di chi ha lasciato la propria terra e i propri affetti per cercare condizioni migliori, una nuova vita, un lavoro, una rinnovata speranza. E in questa ricerca deve affrontare anche paura, solitudine, fatica. Ma forse anche la scoperta che, in fondo, non importa quale dialetto o lingua si parli, perché i desideri, gli amori, i drammi e le commedie che ne derivano sono gli stessi, ovunque. È la storia di un viaggio che simboleggia i mille viaggi che i nostri genitori e i nostri nonni hanno intrapreso in ogni epoca su e giù per l'Italia. Le Not ci condurranno in questo viaggio insieme a due migranti molto particolari, Battista e Cesira. Il viaggio comincia e nell'inizio c'è un addio pieno di tristezza, ma anche un incanto. Il viaggio 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 Adieu, mi gran montagne, adieu, ma bella lei, adieu, ma scelte compagne, adieu, ma bella in me. Le fengen d'œuvre, le fengen d'œuvre, herpongeres des dînes, C'è galve suverini, ja, murte, monte, lì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti.